Mi domando com'è successo che sia potuto capitare di diventare una persona che pretende di fare arte, potere tutto un tratto pensare di aggiungere qualcosa alla natura, di fare un oggetto che ha la dignità di essere. Ma è un cambiamento che è uscito fuori dalle mie mani, non vorrei dire con inconsapevolezza, ma devo anche accettare che non era tanto previsto. Frequento queste materie che mi ispirano molto, il tessuto, la carta, la carta si trasforma in un libro, il libro parla del tessuto e c'è anche questo circuito amoroso tra quello che produco e quello che gli altri vedono.